Melissa Satta, il duro sfogo contro gli haters che la accusano di. Melissa Satta direttamente da Istanbul risponde agli haters che l'hanno accusata di essere scappata proprio nel momento peggiore. La scioghella è molto arrabbiata e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui cerca di essere più vicina possibile a Milano. Non lo è mai stata tanto quanto adesso, in un momento tanto difficile per l'Italia intera. I maligni l'hanno accusata di essere scappata via in piena emergenza sanitaria, di essere andata a Istanbul in Turchia dove pensa di essere al sicuro. In realtà la donna specifica di essere andata lì per altri motivi insieme al figlio e dal marito Kevin o Vince Buateng. Melissa Satta, il dolce messaggio per Milano.Melissa Satta ha scritto delle dolcissime parole per la sua Milano. La città che l'ha adottata a 18 anni, la città che le ha permesso di fare successo, quella che l'ha fatta diventare donna, quella che le ha regalato la fortuna di trovare il lavoro che ha sempre amato. A Milano ha trovato l'amore, ha costruito cassa e famiglie, a Milano ha lasciato tantissimi amici, quelli sui quali può portare ogni giorno. Per lei adesso non è facile essere tanto lontani, anche perché il pensiero di aver lasciato amici e parenti in Italia, di essere lontani da loro, la ruba è. Ecco che quando viene accusata di aver lasciato tutto e tutti, questa ora si arrabbia davvero profondamente. Tutto un'altra firma che in genere di fronte a scopi di accuse, ha chiuso entra meglio, pur di non dare importanza a questa gente, pur di non arrabbiarsi. Ma adesso è arrivato il momento di farlo perché è stato toccato il tasto, peggiore ed è davvero sconciato. Una valigia per sette giorni, la famiglia però sceglie di restare unita, appunto l'asciugher non ha mai pensato di fare la valigia e scappare. Ha fatto la valigia per una settimana, per motivi di lavoro, lei e la sua famiglia sarebbero dovuti ritornare in Italia dopo sette giorni. Ma essendo si è gravata la situazione, si è trovata a scegliere, tornare sola con il bambino, con la scuola chiusa, o rimanere con il marito e stare insieme. Ha deciso come qualunque mamma avrebbe scelto di fare, di non separare papà e figlia, di rimanere con il marito. Hanno intenzione di ritornare quando sarà possibile e farlo conto ha poi concluso il suo messaggio raccomandando agli italiani di rimanere chiusi in casa, di farlo per se stessi ma anche per i propri amici, per le proprie famiglie. Restando uniti e rispettando le regole si avrà infatti la possibilità di ritornare ognuno alla propria vita più in fretta possibile.